Allora, buongiorno a tutti. La lezione di oggi riguarda i meccanismi generatori di funzione ed in particolare andremo a dimostrare e ad applicare le questioni di Freud e Stein. Però cerchiamo di inquadrare il problema in un contesto generale, vediamo di capire che cosa significa il generatore di funzione. Usando dei termini un po' più tecnici diciamo che stiamo ragionando sulla sintesi dimensionale di un sistema articolato, in particolare un guadrilatero, ma come vedremo la cosa è estendibile anche ad un manovillismo di spinta, ecco che sia in grado di generare un rapporto di trasmissione variabile. Quindi è un po' una situazione se volete simile a quella della trasmissione del moto mediante ruote dentate o mediante cinchie in cui ho due alberi con assi paralleli, nella maggior parte dei casi, con interasse assegnato e noi vogliamo trasmettere il moto tra un albero e l'altro con un rapporto di trasmissione che solitamente è costante nelle applicazioni tecniche più comuni ma che può essere anche variabile. Per esempio nel caso delle ruote dentate, solitamente abbiamo a che fare con ruote commerciali circolari ma esistono e sono commerciali anch'esse delle ruote dentate non circolari, così come sono reperibili sul mercato anche delle pulegge non circolari. Quindi anche in queste situazioni, se volete, più tradizionali più comuni nelle applicazioni tecniche è possibile generare un rapporto di trasmissione tra l'albero d'ingresso e l'albero di uscita cedente con un rapporto di trasmissione variabile. Bene, la stessa cosa può essere ottenuta mediante dei sistemi articolati. Mediante dei sistemi articolati. Dal punto di vista matematico questo significa generare una funzione, ma la funzione che cos'è? È la funzione che rappresenta, ripeto, tecnicamente un rapporto di trasmissione variabile. Ok? Quindi, se noi immaginiamo di rappresentare questa funzione che noi vogliamo generare tra ingresso e uscita nella trasmissione del moto possiamo correlare l'angolo di input di rotazione della manovella, per esempio, con l'angolo di output. Quindi, indichiamo l'output con psi e l'input con phi. E possiamo avere una stessa funzione. Quindi, in generale, diciamo che psi è funzione dell'angolo phi. Se noi andiamo a rappresentare questa funzione, un grafico, qualitativamente, supponiamo che abbia un andamento di questo tipo, quindi questo è il grafico della nostra funzione assegnata, perché questa è la specifica del progetto, noi vogliamo effettuare la sintesi dimensionale di un quadrilatero, in questo caso, va bene, che sia in grado di generare questa funzione tra l'ingresso e l'uscita, cioè un rapporto di trasmissione variabile. Va bene? Non è un'operazione molto semplice e noi l'andiamo a fare e solitamente il risultato è accettabile per tre posizioni, cioè tre coppie di valori tra l'ingresso e l'uscita. Va bene? Quindi, quelli che solitamente si indicano, in questo caso, con punti di precisione, ok? Quindi abbiamo un punto pi con uno, per esempio, un punto pi con due di precisione, che chiaramente ha come coordinate un pi con due, si con due, si con due, si con uno, si con uno, e un terzo punto di precisione, si con tre, si con tre. Quindi, nella realtà, il quadrilatero del quale andiamo ad effettuare la sintesi dimensionale, genera una funzione che non è esattamente quella desiderata, ma la funzione che si ottiene è, per esempio, rappresentata da questa curva rosa che interseca la funzione di riferimento in tre punti che rappresentano i punti di precisione. Quindi vuol dire che esattamente in queste configurazioni il quadrilatero rispetta la funzione assegnata. Ma se vado a considerare una configurazione diversa di questo quadrilatero, io ho un errore che consiste nel discostamento tra la curva rosa, quella reale, rispetto alla curva assegnata come specifica di progetto. Bene, questo errore che consiste in questo scostamento si chiama, in questo caso, per i meccanismi, errore strutturale. Va bene? Quindi questo è, ripeto, l'errore strutturale. E i punti P1, P2 e P3 sono i punti di precisione, dove l'errore strutturale è uguale a zero, perché vado a beccare con esattezza le coppie di valori che corrispondono alla funzione assegnata. Stiamo ragionando su tre punti di precisione, che è il caso più frequente nelle applicazioni. Più di rado può capitare di ragionare su soltanto due punti di precisione, come vedremo in tal caso otteniamo infinite alla uno soluzioni, se avessimo un solo punto di precisione avremmo infinite alla due soluzioni, se abbiamo, ripeto, come nel caso più frequente, tre punti di precisione, la soluzione è unica. ok? Ma noi potremmo desiderare anche qualcos'altro, cioè una maggiore accuratezza, cioè una maggiore fedeltà rispetto alla funzione assegnata. E quindi potremmo desiderare più di tre punti di precisione. Allora in quel caso il sistema diventa sopravincolato, perché se ho una soluzione con tre punti di precisione, se ne considero 4, 5 o 10, naturalmente io vado a vincolare ulteriormente il sistema dal punto di vista matematico. Questo può essere fatto, lo stesso, però naturalmente possiamo ragionare con dei metodi di ottimizzazione che sono finalizzati alla minimizzazione dell'errore strutturale. Ok? Quindi non riusciamo esattamente a riprodurre il rapporto di trasmissione desiderato, assegnato per il tramite degli angoli di ingresso e di uscita, ma possiamo avvicinarci a questo minimizzando l'errore strutturale. Questo è il discorso impostato un po' in generale. Nella fattispecie, come già anticipato, noi andiamo a ragionare su tre punti di precisione. Quindi in realtà noi abbiamo a che fare con un problema di questo tipo. Abbiamo assegnato per esempio il punto di precisione più 1 per il tramite delle sue coordinate. Quindi io conosco che cosa? Fi con 1 e psi con 1. Il secondo punto di precisione, P2, conosco fi con 2 e psi con 2 e ancora con P3 conosco fi 3 e psi con 3. Quindi conosco queste tre coppie di valori, ossia di angoli. Non soltanto, proprio in stretta connessione con quelle che sono le applicazioni pratiche, noi solitamente che cosa conosciamo? L'interasse. Ok? Cioè quando noi vogliamo trasmettere il moto tra due alberi paralleli, ok? Che può essere un motore o una pompa o comunque un nastro trasportatore, un utilizzatore qualsiasi, noi solitamente conosciamo l'interasse come input geometrico. Poi oltre all'interasse vogliamo assegnare un certo rapporto di trasmissione per fare il giusto accoppiamento motore carico. Va bene? Quindi l'interasse è assegnato. L'interasse nel caso del quadrilatero articolato è nient'altro che uno dei lati del quadrilatero, cioè la distanza tra le due centriure fisse a 0 e 0. Quindi andiamo a fare in parallelo uno schemino del nostro quadrilatero che ci apprestiamo a progettare appunto sviluppando la sintesi dimensionale. E allora io ho nota una cerniera fissa, ho un'altra cerniera fissa, quindi io voglio trasmettere il moto tra questi due assi paralleli che sono perpendicolari al piano della lavagna. Quindi questo è A con 0 e questo è B con 0. Questa distanza come dicevo è assegnata e la indichiamo per esempio con B. Va bene? Quindi noi partiamo da questa situazione. Vogliamo trasmettere il moto tra l'ingresso e l'uscita in modo tale da ottenere un rapporto di trasmissione variabile, ok? Sarebbe costante per esempio nel caso del parallelogrammo articolato, perché avrei due manovelle, chiaramente la manovella cedente si muove come la manovella muovente, ok? Perché il centro di istantanea rotazione sta all'infinito, il centro di istantanea rotazione nel moto relativo sta all'infinito e quindi praticamente ho una pura, diciamo, traslazione tra il membro muovente e il membro cedente, che vuol dire che ho un rapporto di trasmissione costante. Benissimo, quindi nella realtà io ho queste tre posizioni, una, due e tre per quanto riguarda il membro muovente e ho tre posizioni, uno, due e tre per il membro cedente. Queste posizioni come detto vengono assegnate per il tramite di queste coppie di angoli, quindi se questa è la posizione uno, questo è due e tre, questa corrisponde alla uno del cedente, due e tre, va bene? Quindi conosco in effetti questo angolo che è F1, conosco questo angolo che è F2 e F3, da quest'altra parte succedente analogamente F2 e F3. Quindi per il tramite di queste tre coppie di angoli io conosco le posizioni muovente e cedente. Non a caso, vedete, non è rappresentata la biella e non sono neanche indicati i punti A e B, perché non li conosco, perché quello fa parte del progetto del quadrilatero, cioè io devo progettare il quadrilatero che sia tale da rispettare questi tre punti di precisione come generatore di funzione, ok? E quindi quelle sono le incognite. Allora le incognite del problema, scriviamo qui, sono proprio le tre aste del quadrilatero che non sono qui rappresentate, va bene? Cioè A, B e C. Bene, allora passiamo alla dimostrazione delle equazioni di Freud e Stalin. Andiamo a disegnare nuovamente un quadrilatero, disponendo che sia noto in questo caso per la formulazione del problema. mettiamo quest'asta con A, B, C e D. di C e D. L'angolo di input in generale è phi, l'angolo di output in generale è questo, cioè psi. ok? Quindi il legame è tra ingresso e uscita. E riusciamo a garantirlo con questo ragionamento soltanto per tre punti di precisione. Va bene? Allora andiamo a fare questo ragionamento. Allora vado a fare la parallela a B passante per A0, questo è A, questo è B, questo è B con 0. Quindi la parallela a B passante per A0 e la parallela ad A, cioè A0 A, passante per B, in questo modo. Va bene? fino ad individuare questo punto C. Quindi in effetti A0 A è un panasellogramma per come è stato costruito. Il punto C lo vado a congiungere con B con 0 e quindi ottengo questa figura. Indichiamo questo angolo con alfa, ok? Questo lato, cioè Cb0 lo indichiamo con F, naturalmente Cb per costruzione è uguale ad A e A0 C per costruzione è uguale a B. Va bene? Ancora, consideriamo il prolungamento di questo lato, cioè Cb, il prolungamento del lato di 0, di 0B, se noi andiamo a guardare con maggiore attenzione, siccome questa retta è parallela da 0 A, naturalmente questo angolo è uguale a F, ma quest'altro angolo è uguale a Psi, come vedete, questo tratto che ho disegnato qui è parallelo al telaio, che prendo come riferimento, e quindi in sostanza questo angolo rappresenta la differenza, cioè uguale a F-Psi, va bene? Ma questo angolo, ma questo angolo, naturalmente è uguale anche a questo, che è F-Psi. Detto questo, possiamo scrivere quanto segue, cioè vado a proiettare questi lati sulla retta orizzontale passante per A, B0, e quindi che cosa ottengo? Ottengo allora A per il coseno di π-Pi più B per il coseno di α, più C per il coseno di Psi, e questo è uguale, naturalmente, all'interasse B, ok? Possiamo banalmente scriverla in questo modo. Ci fa comodo, per i passaggi successivi, andare ad isolare il termine B coseno di α, quindi B coseno di α, tenendo conto che questo termine è uguale a meno coseno di Psi, portando all'altro membro, qui ho A coseno di Psi meno C coseno di Psi più B, va bene? Adesso andiamo a ragionare su questo lato F, ingezza F, mi riferisco al lato CB0. Questo lo posso considerare come un lato del triangolo A0CB con 0, così come un lato del triangolo CB0B, e quindi posso esprimerlo in relazione al primo e al secondo triangolo, semplicemente applicando il teorema di Carnot, va bene? Quindi posso scrivere cosa? F quadro, con riferimento al primo triangolo citato prima, è uguale a B quadro più D quadro meno 2BB per il coseno di α, teorema di Carnot. Riapplico il teorema di Carnot con riferimento allo stesso lato, ma con riferimento all'altro triangolo, ripeto, CB0B, quindi posso scrivere che F quadro è anche uguale a dal quadro più C quadro meno 2AC per il coseno di quell'angolo che è Fi meno Psi. ovviamente posso uguagliare i secondi membri di queste due equazioni appena scritte, e quindi posso scrivere quanto segue B quadro più D quadro meno 2BB coseno di α, questo è uguale ad A quadro più C quadro meno 2AC per il coseno di Fi meno Psi. Va bene? Ho uguagliato semplicemente i secondi membri. Bene? Anche qui vado ad isolare il termine B coseno di α. Mi fa comodo isolarlo e lo scrivo qui. Quindi B coseno di α è uguale a che cosa? Allora, questo lo porto dall'altra parte e quindi ottengo B quadro più D quadro meno A quadro meno C quadro più 2AC coseno di Fi meno Psi e naturalmente qui ho un 2D. Per il momento lasciamolo qui, questo coefficiente, coefficiente 2D. Allora, siccome noi da queste considerazioni abbiamo ottenuto questo B coseno di α che è uguale a questo termine e allora non ci rimane che andare ad eguagliare queste due espressioni. Scrivo qui, quindi A coseno di Fi meno C coseno di Psi più D che è il secondo membro di questa equazione, deve essere uguale al secondo membro di questa equazione diviso 2D. Quindi qui abbiamo allora B quadro più D quadro meno A quadro meno C quadro più 2AC coseno di Fi meno Psi quindi tutto diviso abbiamo detto 2D, ok? Quindi ho eguagliato i due secondi membri delle due equazioni con l'asterisco. qui naturalmente ho portato 2D al denominatore, va bene? Ok, qui facciamo un altro discorso, vado ad isolare, questa volta mi interessa questo termine, coseno di Fi meno Psi e lo scrivo subito qui. Quindi coseno di Fi meno Psi è uguale, va bene? è uguale a che cosa? è uguale a 2D per A coseno di Fi diviso però per 2AC ancora qui ho meno 2DC coseno di Psi diviso 2AC e poi abbiamo più 2D al quadrato meno D quadro meno D quadro meno D quadro più A quadro più C quadro diviso 2AC va bene? va bene? andiamo a fare delle semplificazioni 2 2A A 2 2CC va bene? poi qui guardate abbiamo 2D quadro meno D quadro, va bene? e naturalmente questo è uguale a più D quadro, ok? bene, riscriviamola in maniera più compatta e ordinata quindi abbiamo D su C coseno di Fi meno D su A coseno di Psi più D su A coseno di Psi A quadro meno D quadro più D quadro diviso 2AC questo deve essere uguale al coseno di Fi meno Psi ok? bene, andiamo ora ad indicare questi termini tra parentesi in maniera più compatta e quindi indichiamo questo termine con R1 quest'altro termine con R2 e quest'altro ancora con R3 e quindi fate queste posizioni come diventa l'equazione R1 coseno di Fi meno R2 coseno di Psi più R3 uguale al coseno di Fi meno Psi quindi questa è la ben nota equazione di Freud-Stack questo discorso è molto interessante, no? molto interessante perché? perché noi quando abbiamo a che fare con la cinema della matematica dei meccanismi abbiamo a che fare con equazioni trascendenti che sono, come appena noto, fortemente non lineari quindi abbiamo grossi problemi insomma nella risoluzione proprio dal punto di vista matematico ecco con questo ragionamento andiamo un po' a riflettere sul risultato il risultato è molto interessante perché dobbiamo, non dico capire perché è abbastanza evidente ma dobbiamo riconoscere quali sono le incognite, va bene? l'incognita non è l'angolo che ci da più fastidio, no? perché sta dentro una funzione trigonometrica questi qua sono i coefficienti perché io conosco queste tre coppie di valori per i punti di precisione poi in realtà questa equazione vale per ogni punto di precisione quindi non è legata ai tre, ai due o ai dieci punti di precisione questa vale per ogni coppia di valori quindi ne posso scrivere tre, come nella maggior parte dei casi, come detto più volte ne posso scrivere dieci di queste equazioni, ok? se punto all'obiettivo di ottenere dieci punti di precisione ma poi dal punto di vista matematico che cosa succede? questi sono i coefficienti, quindi r1, r2, r3 sono le incognite e questo è un termine noto, questo è un numero capito? non è una funzione, questo è un numero perché io conosco figon1 e psicon1 faccio la differenza, faccio il coseno e c'ho il numero quindi le incognite dove stanno? le incognite sono r1, r2, r3 che a loro volta sono collegate a cosa? alle dimensioni delle aste D è noto e quindi sono collegate ad A, B e C C, cioè le tre incognite del problema quindi se io ne scrivo tre di queste equazioni ho un sistema di equazioni tre incognite cioè vado a pareggiare il numero di equazioni algebriche, perché questa è un'equazione algebrica non è trigonometrica è un'equazione algebrica perché questi sono i coefficienti e queste altre sono le incognite quindi al momento in cui ho ricavato r1, r2, r3 tramite queste altre relazioni io vado a ricavare A, B e C cioè ho progettato il quadrilatero articolato che è in grado di garantire quei tre punti di precisione della funzione che tecnicamente rappresenta il rapporto di trasmissione variabile ingresso-uscita e quindi questo è il risultato quindi il grande contributo fornito dal professore Freud Stein è stato questo intuito geniale di trasformare diciamo un problema fortemente non lineare in un problema lineare questo è un sistema di equazioni algebriche va bene? e quindi naturalmente valgono le regole ben note dell'algebra lineare quindi se io ho tre equazioni tre incognite e il determinante della matrice dei coefficienti naturalmente è uguale a 3 io ottengo una soluzione cioè una sola soluzione dei valori A, B e C del quadrilatero e quindi sono riuscito a progettarlo perché prima vi dicevo che potrei ottenere per due punti di precisione infinite alla 1 soluzione? perché se io ho soltanto due punti di precisione io posso scrivere in due sole di queste equazioni perché conosco soltanto due coppie di valori Fi e Psi ma per incognite quante sono? sono sempre 3 quindi avrei un sistema di due equazioni in tre incognite e quindi mi da completamente infinite alla 1 soluzione perché devo ottenere una soluzione diciamo facendo diventare il termine noto la terza incognita quindi viene tutto in funzione di quella variabile e quindi infinite alla 1 se avessi un solo punto di precisione che chiaramente non ha senso dal punto di vista pratico ma giusto per fare un esercizio matematico io posso scrivere una sola di queste equazioni in tre incognite e quindi infinite alla 2 soluzione va bene? è ovvio che è abbastanza evidente che il caso pratico di maggiore interesse è quello con tre punti di precisione in cui ho il pareggio tra il numero di equazioni e il numero delle incognite bene a questo proposito vi voglio riportare questo esempio numerico i dettagli dei calcoli potete verificarli però intanto impostiamo il problema quindi immaginiamo di avere questi punti di precisione quindi le coordinate fi con i, psi con i i punti di precisione i quindi punto 1 quindi mettiamo proprio dei numeri 30 gradi e 90 gradi secondo punto di precisione 75 gradi, 127 gradi questo esempio lo trovate sul libro di testo 3, 120, 180 gradi sul volume 1 perché qui stiamo parlando di moti finiti 3 posizioni finite va bene? ok, questi sono dei dati del problema facciamo uno schemino per rendere il problema più intuitivo questo rappresenta l'interasse come già spiegato prima e andiamo a rappresentare in questo caso qualitativamente ma è ovvio che può essere fatto con precisione quindi 30 gradi quindi qualitativamente io ho questo angolo 30 gradi in uscita 90 gradi questo è 90 gradi ok? poi 75 gradi diciamo che abbiamo una posizione all'incirca di questo tipo questi sono 75 gradi quindi 127 chiaramente lo faccio molto qualitativamente questi sono 127 gradi e poi 120-180 e naturalmente qui abbiamo 180 gradi questa è la terza posizione dell'ultimo punto e come si risolve il problema? semplicemente andiamo ad applicare le equazioni di forestale che abbiamo appena dimostrato cioè cosa andiamo a scrivere? andiamo a scrivere r1 coseno di figo 1 giusto? ma figo 1 è 30 gradi coseno di 30 gradi meno r2 per il coseno di psico 1 che è 90 gradi ovviamente uguale a 0 ma lo scriviamo lo stesso per capire come vanno le cose più r3 uguale al coseno di fi meno psi cioè 30 meno 90 e meno 60 quindi ho il coseno di meno 60 gradi oppure se volete scriviamo proprio 30 meno 90 ho scritto un'equazione per la prima coppia di valori scrivo un'altra equazione formalmente identica ma naturalmente con numeri diversi per quanto riguarda la seconda coppia di valori quindi ho r1 coseno di 75 gradi meno r2 coseno di 127 gradi più r3 uguale al coseno della differenza cioè di 75 meno 127 rimane da scriverne ancora una per la terza coppia di valori assegnata va bene? allora r1 coseno di 120 gradi meno r2 coseno di 180 gradi anche qui lo scrivo per complezza coseno di 120 meno 180 e queste sono le tre equazioni che posso scrivere per quelle tre coppie di valori assegnate che corrispondono ai tre punti di precisione della funzione che vogliamo generare ok? e vediamo che è un sistema di equazioni algebrico in tre equazioni e tre incontri va bene? allora naturalmente questo è uguale a 0 coseno di 180 è meno 1 quindi questo diventa positivo io vi riporto anche dei numeri che potete naturalmente verificare banalmente con la calcolatrice quindi abbiamo 0 6 6 0 che è il coseno di 30 gradi r1 questo ha lo scopo di imporre ulteriormente in evidenza che l'incognita non sta nella funzione trigonometrica ma sta naturalmente nelle dimensioni del quadrilatto per il tramite dei coefficienti r1 e r2 r3 più r3 perché abbiamo detto che r2 in questo caso è uguale a 0 uguale al coseno della differenza quindi coseno di meno 60 che comunque è positivo quindi 0,5 questa è la prima equazione poi abbiamo 0,2588R1 più 0,6018R2 più r3 che è uguale a 0,6157 va bene? con semplicemente i coseni di 75 che comunque è positivo di 127 che è negativo quindi scompare questo meno e poi qui abbiamo il coseno di questa differenza quindi di un numero negativo che comunque è positivo poi abbiamo r1 coseno di 120 che è naturalmente negativo quindi 0,5R1 più r2 più r3 uguale a 0,5 quindi in questo caso specifico il sistema costituito dalle tre equazioni di Freud di Stein per le tre coppie di valori assegnati si immaterializza in questo va bene? e le incognite ovviamente sono r1, r2 ed r3 è un sistema algebrico lineare insomma si può dimostrare che determinate la ratio di effigenti è diverso da 0 e lo si può risolvere come volete per esempio tramite la regola di Graham va bene? allora io vi do i risultati che sono riportati anche sul libro potete verificarlo sviluppando naturalmente il sistema i risultati sono i seguenti quindi r1 la prima incognita è uguale a 0,5383 r2 è uguale a 0,7353 ed r3 è uguale a 3,3826 per 10 alla meno 2 ok? quindi la soluzione di questo sistema algebrico lineare tra equazioni e 3 incognite è la seguente chiaramente il problema non è ancora terminato perchè noi vogliamo la dimensione delle aste perchè vogliamo disegnare il quadrilato dell'articolare dove stanno le dimensioni delle aste? stanno dentro r1, r2, r3 va bene? e quindi possiamo dalle posizioni fatte vedete noi abbiamo che r1 è uguale a d su c ma d è assegnato perchè è l'interasse e quindi l'incognita è solo a c per cui da quella ricavo subito la c e quindi posso scrivere che c è uguale a d su r1 c è uguale a d su r1 e quindi è uguale a 1,8579 stiamo assumendo, abbiamo assunto d uguale ad 1 unitario l'interasse per semplificare i calcoli quindi abbiamo ricavato la c andiamo a ricavare le altre due lunghezze delle altre due aste quindi abbiamo poi che a è uguale dall'altra posizione abbiamo d su r2 d su r2 vi do anche il valore numerico 1,361 che vi prego di verificare e poi abbiamo l'ultima cioè la b che dobbiamo estrapolare da questa cioè la r3 che abbiamo detto che r3 è uguale a tutta questa va bene? dobbiamo tirare fuori la b perché la a e la c la d assegnata la a e la c l'abbiamo appena ricavata ok? quindi rimane come unica incognita solo la b dalla conoscenza della r3 che abbiamo contenuto dalla risoluzione di questo sistema algerico lineare va bene? la formuletta è la seguente quindi radice quadrata di a quadro più c quadro più d quadro meno 2acr3 va bene? vi do anche il valore numerico per questo caso particolare che è 2.4760 quindi abbiamo ricavato c abbiamo ricavato a e abbiamo ricavato b che erano le tre incognite quindi possiamo disegnare il quadrilatero articolato cosa che andiamo a fare in maniera qualitativa in questo caso naturalmente questo è una delle tre posizioni del quadrilatero naturalmente per individuare questo punto cioè il raggio di questa circonferenza tratteggiata naturalmente mi serve la dimensione a che abbiamo ricavato giusto? perché questa cediera è a0 questa è b0 e questo è il punto a1 a2 a3 e la distanza a0 a che è uguale per tutti naturalmente è proprio a piccolo a minuscolo va bene? analogamente per quanto riguarda il cedente ho ricavato la dimensione c c e quindi punto il compasso in b0 e traccio un raggio di un raggio scusate un arco di circonferenza di raggio uguale a c va bene? questo è b1 questo è b2 e quest'altro punto è b3 se vogliamo ora rappresentare anche la biella devo semplicemente congiungere a1 con b1 a2 con b2 e a3 con b3 naturalmente la lunghezza della biella deve essere sempre la stessa è ovvio parliamo di corpo rigido queste sono soltanto tre configurazioni va bene? ma è lo stesso uguale l'arte d'accordo? bene con questo quadrilatero per queste tre configurazioni noi riusciamo a garantire effettivamente questi tre punti di precisione ok? e questo ci consente di approssimare una trasmissione variabile per tre punti la cosa può essere migliorata come vi ho già accennato aumentando i punti di precisione ma capite bene che se io allungo questa lista aumenta il numero di equazioni di Freud e Stein che posso scrivere ma il numero di coglie sono sempre tre e quindi naturalmente dobbiamo procedere soltanto con dei metodi di ottimizzazione che hanno lo scopo di minimizzare l'errore strutturale va bene? ok? potremmo in questo caso potremmo in questo caso divertirci anche a verificare che tipo di quadrilatero viene fuori con la regola di Grashoff no? allora che cosa dovremmo fare per applicare la regola di Grashoff andiamo a considerare la somma del lato più corto e di quello più lungo no? long quindi il più corto è proprio D perché è uguale a 1 D è uguale a 1 A è uguale a 1,36 C è 1,85 D è 2,47 quindi il più corto è proprio D va bene? quindi scrivo D più il più lungo il più lungo è evidente che è B perché il 2 è uguale a 47 quindi la somma di D più B deve essere confrontata con la somma degli altri due secondo la regola di Grashoff va bene? ma qui abbiamo 1 più 2 è uguale a 47 e quindi viene 3,4760 la somma degli altri due sarebbe A più C ma A è uguale a 1,3601 più C che è 1,85 di 79 ok? che dovrebbe essere uguale a 3,2180 quindi mi accorgo che questa è maggiore anzi che D più P è appunto maggiore di A più C va bene? quindi D più B è maggiore di A più C ok? e quindi da questo possiamo riconoscere il tipo di quadrilatero secondo la regola di Grashoff ok? allora andiamo avanti e andiamo a vedere come le equazioni di Freud-Stein possono essere estese anche al caso del manovellismo andiamo a vedere quindi il caso del manovellismo prendiamo in generale un manovellismo ordinario deviato che presenta una certa ecceplicità quindi questo è A con 0 A e B le dimensioni delle aste mettiamo questa con A2 questa con A3 e poi abbiamo diciamo qui un offset che è l'eccentricità che la indico con C e questo sarebbe connesso diciamo alla alla variabile che rappresenta naturalmente la posizione del pistone che vado a indicare con S mentre questo angolo di manovella lo indico con θ qual è la variabile di ingresso qual è la variabile di uscita in questo caso? beh, la variabile di ingresso in genere è l'angolo di manovella la variabile di uscita è la posizione del pistone ok? quindi mentre prima avevamo delle coppie di angoli come punti di precisione in questo caso come punti di precisione abbiamo θ1s1, θ2s2, θ3s3 se ne avessimo 3 va bene? queste sono le variabili di ingresso uscita allora, qui possiamo scrivere queste due equazioni in forma scalare che possono essere pensate anche derivate dall'equazione di chiusura e quindi posso scrivere che cosa? allora, A2 cosθ più A3 cosφ ma φ qual è? è questo angolo orientato qui va bene? che definisce la posizione di questo vettore in termini angolari coseno di φ questo deve essere uguale come coseno quindi questo deve essere uguale ad S possiamo scrivere un'analoga relazione proiettando sull'asse delle ordinate quindi ho una 2 seno di θ più A3 seno di φ questa volta che è uguale ad Sci cioè l'eccentricità va bene? in un caso proietto sull'asse delle ascisse nell'altro caso proietto sull'asse delle ordinate va bene? a partire dall'equazione di chiusura che è A2 più A3 come vettori che è uguale ad S più C va bene? ok allora qui ci conviene isolare il termine con φ perché questo angolo non ci interessa mi interessa ingresso-uscita quindi mi fa comodo liberarmi dell'angolo φ quindi vado ad isolare φ per cui scrivo A3 coseno di φ che è uguale ad S-A2 coseno di θ e ancora A3 seno di φ che è uguale a C-A2 seno di θ semplicemente isolato il termine in cui compare l'angolo φ che mi dà la posizione della biella se vado a quadrare e sommare membro e membro queste due equazioni io mi libero di φ giusto? perché viene se quadro più cos quadro che è uguale a 1 quindi sommo e quadro queste due equazioni membro e membro quindi ottengo a primo membro ho un A3 al quadrato se nel coseno sono scomparsi al secondo membro naturalmente devo sviluppare questi quadrati questi quadrati significa S quadro anche qui possiamo tagliare dritto il risultato perché avrei S quadro più A quadro cos quadro però quando vado a sommare il quadrato di questo A quadro sen quadro quindi anche qui rimane soltanto più A2 quadro va bene? scompare anche questo coseno anche se poi compare nel doppio prodotto quindi meno 2S A2 coseno di θ che è il primo doppio prodotto qui ci manca ancora qui ci manca ancora un C quadro più C quadro più questo doppio prodotto che è ancora negativo quindi meno 2A2C coseno a 2C scusate di seno qui seno di θ eccoci qua ho quadrato e sommato membro a membro ok allora andiamo a guardare con maggiore attenzione questa equazione che abbiamo ottenuto e in particolare puntiamo sull'S quadro sull'S quadro e su S coseno di θ questo e il seno di θ va bene? perché anche in questo caso ovviamente dobbiamo giungere ad un'equazione algebrica va bene? quindi naturalmente questi sono i coefficienti non le incognite perché l'angolo di manuella è assegnato insieme alla particolare posizione del pistone cioè della S ok allora se facciamo queste posizioni quindi r1 uguale a 2A2 r2 uguale a 2A2C ed r3 è uguale a 2A2A2A3 scusatemi a uguale a 2A2A3 e quindi vedete qui se io vado ad isolare S cos theta rimane 2A2 ma 2A2 è r1 qui ho isolato il seno rimane 2 a 2C che sarebbe R3 e tutto il resto è R3 quindi in maniera compatta posso scrivere l'equazione in questo modo cioè R1S coseno di teta più R2 seno di teta meno R3 è uguale a S al quadrato questa è la generica equazione di Freud e Stein nel caso del manovellismo quindi vengono assegnati anche in questo caso tre coppie di valori e quindi tre coppie di valori quindi di conseguenza questo qui è coefficiente questo è coefficiente l'S quadro è noto è un termine noto quindi anche qui le incognite sono naturalmente R1, R2, R3 stesso discorso sulla falsa linea poi ricavati R1, R2, R3 qui vado a ricavare le dimensioni del manovellismo dimensioni del manovellismo che ho diciamo le tre incognite che sono A2 che è la manovella A3 che è la biella e in generale ho anche la C che rappresenta appunto l'offset quindi ho comunque tre incognite R1, R2, R3 e tramite S A2, A3 e C va bene? ok il discorso è esattamente diciamo identico al caso del quadrilatero che abbiamo appena considerato va bene ci fermiamo grazie